Avete mai visto, avete mai visto un cane così deficiente? Buono, fa vedere cosa c'è a mano? Niente, vai, darglielo, buono, tieni, bravo anche, ancora un altro, bravo tesoro, dai un altro pezzettino, ma bravo quel canino, ecco l'altro, bravo, è cascato, ora però un pezzetto ti lo devo dare, sennò il povero, povera bestia, l'ultimo pezzettino va, guardate, ma come se lo gustava, c'è un po' niente, niente, baute, ha Dyto seduto, seduto, tieni, seduto, tieni, Achi, tieni, tieni, amore, Achi, tieni, amore. piano piano ecco il mio amore è buonissimo beh l'ultimo perché è di questo dai daria lo vai che ha mangiato tanto di niente